Ah raga, qui la Wizard sta buttando fuori notizie su notizie, cominciamo subito! Ragazzi miei, Pioneer Master arriva per davvero su Arena, lo hanno appena annunciato a Vegas. E raga, che vi devo dire? Arriva per davvero un set che porterà tutto il Pioneer tolto dal competitivo su Magic Arena. Sarà un set da 394 carte, draftabile, quindi porteranno tutte quelle che mancano probabilmente, o quantomeno pareggeranno Pioneer Explorer per davvero, e arriverà a dicembre. È una buona notizia per Magic Arena? No, cioè sì per gli amanti del Pioneer, perché dal 10 dicembre vanno questa cosa qui che fa un po' come Can of Tarkir gli anni scorsi, ma è quanto segue dopo, che mi lascia un po' perplesso. Per fortuna sarò ospite in una live dove ci daranno delle delucidazioni, perché saremo comprofessionisti del settore, e potremo parlarne un po' più completamente. Quindi vabbè, arriva Pioneer Master, arrivano tutte le bombe che mancano da Pioneer, in modo tale che Explorer arrivi a completarsi, completamente trasformarsi come Pioneer. Ma, altro annuncio incredibile ragazzi, è che da questo momento in avanti, con la Foundation Era, tutti, oltre agli spoilerini vari che ci sono stati che poi commenteremo domani, Tutti, e ripeto, tutti i set che usciranno, compresi i set dei Universe Beyond, saranno legali in standard. Ed è di questo che parlerò poi con i colleghi di Gamesource, che mi hanno invitato nella loro live. Questo vuol dire che avremo uno standard molto, molto pieno di cose diverse, che in questa era, diciamo così, funziona. Perché potremmo avere Urza contro Iron Man, per davvero. Potremmo avere gli eroi di vari mondi, come Gidani, Final Fantasy, contro... È brutto da dire, però mi viene da dire contro... Jace... Non lo so, mi lascia un po' perplesso questa cosa, ok? Ho iniziato a registrare subito, appena ho saputo l'annuncio. Tra poco, ripeto, andrò a ospite da Gamesource, e ricaricherò la parte della loro live dove ne parliamo. E ragazzi, cambia magic. Cambia completamente. Diventa veramente quel gioco che suggerivo poco fa in live, pochi giorni fa, scusate, dove dicevo che se voleva diventare davvero qualcosa che si rivolge ai giovani, deve andare a mischiare tante cose, come hanno fatto Fortnite e altri prodotti. Lo fanno per davvero, ma lo fanno nello standard. Questo, a rigor di logica, non è solo un cambio generale per il gioco, ma è proprio una rotta molto difficile da seguire, se pensiamo che poi anche tutti gli Universe Beyond Set, la Lord of the Rings, e quindi Final Fantasy, e quindi Spider-Man, e quindi tutti quelli che saranno annunciati, e saranno legali in standard, quindi saranno ulteriore spesa per chi vorrà giocare standard. Ora, io trattengo i miei commenti personali perché vorrò farli in live da Steven e poi da Sankiel, ovviamente, e da tutti gli altri ragazzi di Gamesource, e vorrò poi trarre le mie conclusioni a fine video. ricaricherò poi subito questo prodotto, diciamo mediatico, sui miei canali, perché dobbiamo parlarne. Dobbiamo parlarne parecchio, domani ovviamente lo riaffronterò in live, però, raga, che annuncio incredibile. Vado dai miei amici di Gamesource, e ci vediamo dopo lì. A dopo ragazzi. Siccome una parte di questa roba va sui miei canali social, vi chiedo solamente di ripresentarvi, perché non tutti sanno chi siete, ok? Ah, certo. Chiedo scusa un attimo subito a Sankiel, che purtroppo non si vede perché io sto registrando da ninja, non potendo registrare la live. Quindi, Sankiel, mi dispiace, ma tu non posso farti vedere, a meno che tu... No, non è un problema, tranquillo. Eh no, perché la telecamera, sai, com'è su OBS. Se io la uso su OBS non me la fa usare da altre parti. Quindi va bene, ma tranquillo, non è un problema. Ma presentati. Ah, comunque sì, sono Alberto Sankiel di Gamesource, giocatore appassionato di Magic da una vita, non lo so, tanti anni da Mirrodin, quindi, vecchio giocatore. Ciao, io sono Steven, non gioco a Magic da 48 ore, e sono qui sul canale di Gamesource per commentare i tornei di Magic, e la mia vita si svolge guardando altre persone che giocano e commentando nelle giocate, provando costantemente invidia per il divertimento altrui, rimanendo relegato qui su questa sedia, più di 15-20 ore a settimana. Grazie. Siete due professionisti dell'informazione videoludica, comunque, quindi questo è importante. Siete due professionisti dell'informazione videoludica, comunque, quindi questo è importante. Siete due professionisti dell'informazione videoludica, direi. Aspetta, abbiamo dimenticato questo passaggio. Bene. A proposito di professionisti dell'informazione videoludica, posso fare, mi mancano nove minuti al momento in cui posso rompere il mio embargo, prima che si presenta Emanuele, una marchetta verso me stesso. Certo. Allora, ho recensito The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ero a guardare un film su Amazon Prime, parte la pubblicità di Amazon Prime con il trailerino di Zelda, e davanti a tutte le altre testate c'era la mia quote di Zelda con la firma su Amazon Prime. E' stato un momento in cui ho detto, ma vuoi che forse, forse, la mia parola in campo Nintendo conta qualcosa? E' stato un momento di realizzazione improvvisa. E' male che hai detto che era una marchetta personale, perché sennò non si capiva. Una marchetta personale. Scusate, una soddisfazione. Comunque, allora, qui dobbiamo aspettare ancora dei moni... Esatto, c'è la Manuela che la fa presentare. Io sono Manuela, non dico il cognome per motivi di brava, sennò non è vero, è una cavolata. Penso sia l'influente. Sono proprietaria dell'autore del Minotauro a Roma, sono un gioco di livello 2, gioco dal 95, e il colore più bello è il blu. Basta. Bella. Questa è una rappresentazione molto giapponese, perché i giapponesi la fanno questa cosa del dire una cosa, tipo una cosa che ti piace, o un hobby, quando ti presenti. Sì? Io scusate, ma se mi vedete così, perché sto vedendo quanto manca, perché ovviamente qui si è frizzato il tempo. Ah, sì, 3 minuti, 4 minuti. Quindi se vedete che mi alzo all'improvviso, è perché vado a recuperare gli ultimi tavoli e... Allora, per fare questa decisione, noi abbiamo chiamato Luca Bina. Perché Bina? Perché, vabbè, oltre a essere un giocatore di Magic super competente, perché lui viene dal Cartaceo. Grazie. Ha un canale comunque di enorme successo in Italia, in cui però si è specializzato su Arena, sul Digital. Arena di quelle persone che non dico che hanno abbandonato il Cartaceo, ma mentre noi siamo 100% sul Cartaceo, se non nel 99, 98, e però che non è Cartaceo, è MTGO, Bina ha i suoi raccoglitori, però ha spostato il focus sul Digital. E questa è una cosa super importante, no? Perché c'è anche quell'altro lato della medaglia che, secondo me, ci va a completare tutto il giro, ci va a chiudere il giro delle informazioni. Mancano, ragazzi, sette minuti, ma lo sa tutto il mondo, quindi io direi di cominciare. Sì, allora, aggiungo solo una piccola cosa, se posso, Steven. Io non sono un giocatore assolutamente forte, sono un giocatore assolutamente normale, ed è su quello che ho un pochino appuntato tutto il mio lavoro, andare incontro a tutti gli altri giocatori normali che, primo, non si possono permettere questo lusso, perché bene o male è un lusso questo. E poi, soprattutto, non si possono permettere di investire tanto tempo, perché questo richiede tanto tempo, ok? E quindi mi sono detto, Magic Arena può essere lo strumento che porta Magic o un Simil Magic in tutte le case, io devo andare incontro a quei giocatori lì e coinvolgerli ancora di più per tenere in vita un pochino il mio gioco. È questo quello che mi muove, ed è il motivo per cui ho fatto un pochino la transizione da Cartaceo Digitale. Lo dico senza... E quindi, appunto, sebbene Bina sia un mio grandissimo amico, secondo me Arena, invece, è il male, bisogna giocare a Cartaceo, bisogna contattare gli altri, quindi se ne avevo punti di vista completamente diversi, no? Gli antipoti qui. Beh, in realtà ti dico no, perché nel senso, tu sai da che mondo vengo io, no? Un mondo molto più piccolo delle vostre città, da noi non c'è nessuno che gioca a Magic. Però, dei giocatori giovani che non hanno mai giocato a Magic, giocano ad Arena. E dicono, cazzo che bello questo gioco, mi piacerebbe comprare quella carta, vorrei provare a capirne di più. Secondo me è un pochino un punto di accesso molto importante che nel 2024, Vara, 2025... Sade, ragazzi! ...si deve avere. E quindi si va incontro anche a tutti che effettivamente non possono andare al tavolo da gioco, non vogliono spendere i miliardi su MTGO, e si vola. Anch'io sono delle tue zone, bella, Morris. E il punto, ragazzi, è il seguente. Nella conferenza in cui mi ha invitato Wizard of the Ghost, e come sta annunciando in questione Wizard of the Ghost, partiamo da il primo Secret Lair di The Walking Dead, tanti anni fa ormai, no? Sì. In cui c'erano delle carte uniche, e... rispetto che torna Manuela, in cui c'erano delle carte uniche che si potevano giocare solo in Commander. Poi siamo andati al Secret Lair di altre cosine, poi c'è stato il Secret Lair di... la serie di Netflix, del sottosopra, Stranger Things. Stranger Things, sì. Sempre Commander Legal. Poi siamo passati, sempre Secret Lair, a delle carte con un nome diverso, che però hanno le carte di Magic, tipo, che ne so, il Secret Lair di Street Fighter, che la Dugan diventa il Bolt. Quindi, diciamo, o cose solo Commander, o cose estetiche. Aggiungo una cosa, scusa Steven. La prima volta che è successo era con Godzilla o Transformers, in realtà. Che erano delle ristampe. Non erano carte nuove, erano alternative art delle carte che esistevano. Ed è un concetto molto diverso rispetto al Negan di... Rispetto al Negan di The Walking Dead. No, è proprio Godzilla, perché Transformers è in realtà un po' più recente. Era Godzilla, era Godzilla, scusate. Siamo all'opente periodi di Nicoria. Siamo Commander, o carte con alternative, che faranno sempre quelle. Wizard of the Ghost ha assaggiato, ha mangiato un pochino. Non lo sai, queste cose vendono. Facciamo un timeskip gigante fino al Signore di Anelli. Signore di Anelli, Modern Legal, Boom di vendite, Legal e Modern Legacy, Commander e Power. Quindi, senza la rotazione stando appena, Boom di vendite. Davanti al Signore degli Anelli, tutti gli altri set standard sono andati malissimo a livello di vendite di Wizard of the Ghost. Una tragedia. Siamo arrivati poi ad Assassin's Creed, sempre Modern Legal, ma il Power Level non era niente di che, meno carte, dimenticabile. Ma comunque, anche quello in America, Boom di vendite, anche se non c'erano carte. Solamente perché c'erano Ezio, Altair, i personaggi della saga. Poi abbiamo avuto i Commander di Warhammer 40.000, sono qui dietro ragazzi, i Commander di Dottor Ucci, li ho tutti, sono un fan. Solo Commander, carte pazzesche. E adesso hanno venduto un casino, e adesso però Magic è sempre rimasto Magic, con la sua Liliana, la sua Chandra, nuovi personaggi, i Tiny Bones. Adesso ragazzi, nel 2024, ci hanno annunciato che nel 2025 ci saranno ben tre set di Magic, di Universe Beyond, quindi Standard Legal, di Final Fantasy, e Marvel's Spider-Man Legal in Standard. Esatto. Per me questo è un momento epocale, Magic cambia per sempre, non è più lo stesso gioco che conoscevamo, è un cambiamento radicale, e sono qui con voi per parlarne. Hai detto niente, Steve. è un cambiamento radicale. Allora, come dicevo prima ad Alberto, l'ho anticipato in live, io sono a metà via tra l'incazzato e lo stupito, ok? Cade a fagiolo un discorso che ho fatto qualche giorno fa in live dove dicevo che nel digitale, non nel cartaceo, se avessero voluto puntare ad un pubblico giovane, la mossa corretta era fare esattamente come hanno fatto altri titoli, vedi Fortnite, vedi X, Tizio Caio Sempronio, che hanno mischiato i P diversi nello stesso gioco nello stesso universo di gioco, ok? È pazzesco che... Esatto, è pazzesco che esattamente un paio di giorni dopo Wizard va a fare questa cosa su tutto, su tutto, perché non va solo a coinvolgere il cartaceo ma anche il digitale, tutte e due. non dico pazzesco a livello di... è male, chiariamoci, è pazzesco a livello di... Cazzo, quanto è interessante questa cosa, nel senso, noi veniamo da qui, noi veniamo da un mondo fatto e finito e definito che ha una sua estetica, ok? Quindi per molti di noi io sono sicuro stonerà a mischiare, non lo so, Final Fantasy con Lord of the Rings, con Transformers, con Marvel, con Magic, ok? sullo stesso tavolo da gioco a livello artistico dà un po' di fastidio, no? A alcuni. Da un altro punto di vista vi dico se Magic vuole andare avanti altri x anni ho paura che sia una mossa da fare e qui mi taccio perché voglio sentire le vostre opinioni. Allora io credo che innanzitutto questa sia una mossa dettata dal business, dai soldi, dal voler vendere di più e che non ci siano altri motivi dietro per fare una cosa del genere. Eh, io vendo di più facendo come ha fatto Fortnite ragazzi, questa è stata la chiave di successo di Fortnite. Non so se conosci Fortnite, Marvel, DC, supereroi, John Wick, film, tutto dentro, tutte le skin te le vendo, il mio gioco è un patchwork gigante, è un business model che funziona, Wizard of the Ghost vuole guadagnare e mette tutto dentro andando a rinnegare completamente la sua identità. però, mischiandola, mischiandola, però io vi dico anche che da questo punto di vista noi abbiamo la multinazionale del male che è Wizard of the Ghost che vuole solo fare profitto, che è uno schifo. Dall'altro gatto però noi sappiamo come lavora Wizard of the Ghost che poi nelle aziende ci lavorano le persone e gli artisti di Wizard of the Ghost, i game designer, ragazzi, hanno un talento infinito, incredibile e quindi sì, stiamo facendo questa cosa che è per il profitto ma come la facciamo questa cosa del profitto? La facciamo affidandola ai migliori artisti al mondo? Perché è quello che stanno facendo. Io ho visto in anteprima, ragazzi, le illustrazioni di Final Fantasy, le illustrazioni di di Tezzeret nello spazio nella edizione sci-fi poi ci arriviamo a parlare di tutto, di tutto e di più, ragazzi, e chiaramente quelli sono i migliori artisti al mondo a cui affidare una cosa del genere, quindi il risultato di carattere estetico sarà sicuramente fichissimo e andrà in rotta di collisione con i gusti di tutti in maniera positiva, no? Perché sì, 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 io concordo Stiven in realtà, cioè io qualche giorno fa ho commentato gli spoiler di Marvel. Ci sono alcune cose che a livello artistico dici wow, che bello, altre cose un po' meno, ma questa è soggettività, no? Come sempre. Sai dov'è che ho apprezzato di più il Secret Lane Marvel? Nel Sol Ring, che è la centomillesima ristampa. No? di Iron Man, esatto, che è la centomillesima ristampa, ma tu dici quello lì è un prodotto artistico, cioè lo vedi subito che è arte quella, ok? E non faccio fatica a definirlo un Sol Ring, non so se mi spiego, perché anche il Sol Ring, se vogliamo, per com'è fatto, per com'è disegnato, ricorda un po' un reattore art, no? Certo. quando io vedo quelle cose lì a livello soggettivo ti dico, ok, mi stanno mettendo gli Avengers in Magic, stanno uscendo dal mondo, ma mi va bene. Storco un po' più il naso quando vedo Capitan America che tira lo scudo, che non è una spada di guerra e pace, porca miseria, ok, hai capito? Ma, allora, se il gioco si allarga, sono arrivato a capire questa cosa qui, al di là del discorso economico, no, Stivano? Mi va bene. L'importante è che non non si arrivi a snaturare il gioco a livello di gioco, che è la mia più grande... Mi argomento, se poi vedete al di là ho condiviso quello che ho scritto io e gli articoli che ho postato, io dico esattamente questa cosa in questi articoli, a me non interessa, io so che saranno prodotti esteticamente al top, con artisti al top, a me l'unica cosa che interessa è che i game designer continuino a svolgere un lavoro eccellente sul tavolo del gioco, perché poi l'estetica è l'anestesia, è il corollario, è tutto quello che vuoi, ma il core del gioco deve rimanere intelligente e competitivo. Concordo, concordo. Se il gioco è bello e tu sei felice di avere Aurora Storm, la tua tempesta, gioca la tua tempesta, si perde l'identità, questo è chiaro, Magic the Gathering sta facendo la fine di Fortnite, però la fine di Fortnite è una fine ricca e fortunata, non è una fine da niente, insomma, è un'azienda multimilionare, multimiliardaria. se posso collegarmi qui, se posso Steven, io ho, siccome nel contenuto che poi ricaricherò ho anche preparato tutte le schermate che stanno condividendo in questo momento che hanno condiviso poco fa, c'è anche una schermata dove hanno deciso di fondare il panel di Foundation, quindi evidentemente il gioco in qualche modo con tutto quello che stanno annunciando sanno bene che dovranno continuare a gestirlo e credo che se lo vogliono gestire nella maniera giusta è importantissimo non snaturare il prodotto, no? e anche perché in contemporanea io vi aggiungo anche non so se posso dire lo Steven penso di sì, penso che sia una di quelle cose che volevi dire Foundation parte da il mese prossimo cambiamento totale per standard secret layer legale in standard cioè scusate universe beyond universe beyond legale in standard non è la stessa cosa che averli legali in modern ok? perché questo vuol dire andare a lavorare ancora di più sul prodotto standard e quindi doverlo regolamentare molto meglio non possono farsi sfuggire nulla mentre Lord of the Rings poteva avere delle carte che dici ok sono legali in modern ma chissà no? potevi avere anche un pochino un po' più di disattenzione se da adesso in avanti mi inizi a lavorare su foundation e su standard e ci metti dentro anche tutti gli universe beyond non ci può più essere un casonadu cioè non può ragazzi se arriva un ennesimo casonadu adesso è un disastro vuol dire che persino sul prodotto che tu adesso stai spingendo per la maggiore perché è questo che mi stai dicendo con questo annuncio devi metterci la giustissima attenzione non puoi più permettiti errori secondo me da questo momento tant'è che il focus adesso è tanto sullo standard esatto quindi baderanno meno agli altri formati baderanno meno agli altri formati c'è una contraddizione qui è cambiato qualcosa pensateci un attimo che Marvel Spider-Man fosse standard loro già lo sapevano che Final Fantasy fosse standard eh no questa è una cosa che è cambiata recentemente perché non è l'annuncio che hanno fatto loro ma io credo che in realtà Final Fantasy sia escluso dal discorso di Beyond tutto in standard no no è incluso quindi l'hanno incluso alla fine è una modifica dell'ultimo minuto che ha fatto Wizard of the Ghost e questo fa riflettere vi posso dire i nomi dei set se volete o le date davanti uno sguardo a 2025 abbiamo Ether Drift leggi il mio articolo Magic The Gathering Novità 2025 Cliccacè ci sono tutte le cose con tutti gli articoli no vabbè scusami non l'avevo proprio come ti viene mail beh comunque c'è una praticissima immagine che riassume tutto poi questo articolo domani lo metto in live Steven perché lo voglio leggere abbiamo Ether Drift il 14 febbraio del 25 Tarkir l'11 aprile del 25 Final Fantasy il 13 giugno del 25 Edge of Eternities scusate lo il primo agosto del 25 così vicini Final Fantasy è questa mamma mia tutte e due legali in standard poi c'è Spider-Man di cui non si sa la data e UUB di cui non si sa la data allora questa sulle date io vorrei dare un attimo la parola a Manuela Celidonio vai dimmi l'hai vista le date no allora non l'ho potuto vedere perché scusate qui non è facile fare delle cose contemporaneamente Manuela su questo ci tengo ad avere la tua opinione sia da negoziante dimmi le date Bina dei vari set di quando escono c'è una bella differenza 14 febbraio 11 aprile 13 giugno primo ottobre e poi non si sa sono due mesi a distanza uno dall'altro primo agosto scusate primo agosto primo agosto non vedo tutta questa differenza con quest'anno sinceramente eh no c'è c'è la differenza sì quale? la differenza scusate non ce l'ho scritta questo è tutto in standard questo è tutto in standard ma il fatto che volessero puntare sullo standard insomma mi sembra abbastanza non lo so forse dovrei essere no 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 la differenza sta nel fatto che mentre prima ogni due quasi tre mesi usciva un set che però era pensato o per il modern o per lo standard sei molto ottimista sì va bene adesso sono tutti uno a cavallata l'altro tutti per lo standard quindi ogni due mesi entrerà un blocco non lo so di 300 carte diciamo 200-300 carte in standard nuovo sempre in continuazione sono tanti ma poi posso aggiungere una cosa? sono la metà di quelle che ne arrivano su arena ragazzi sì arena monica miseria come te li vivi? cioè che ci sia fai in standard in strad ma tutta sta roba insieme da negoziante come te la vivi? guarda come ho vissuto dalla fine del 2022 la metà 2023 diciamo fino ad oggi e c'è tanto hype che potrei dirvi che si spegne abbastanza velocemente perché hai quasi subito un altro set dalla parte sì dalla parte no perché la gente è contenta di avere nella stessa partita il Signore degli Anelli Assassin's Creed e gli Eldrazi di Modern Horizon 3 quindi diciamo non si va a guardare tanto il contesto quanto la potenza e anche la versatilità di una carta come dicevate prima il discorso del contesto della carta quindi che si c'è Spider-Man che si Iron Man che si Final Fantasy in realtà forse ci focalizziamo più noi che chi effettivamente vedo io giocare ma quello sicuramente sono d'accordo questo sono d'accordo anch'io perché Manuela gestisce un negozio fortemente competitivo quindi la player base di Manuela è gente che sta disegnato pure sopra Pippo e Pluto loro leggono il testo della carta e il costo di mana giusto Manuela? ma guarda anche allora tu sai che io ho una grossa comunità Commander ok? esiste è una grossa comunità Commander non c'è DH quindi ho tanti giocatori che giocano for fun Commander e anche fra chi gioca for fun è carina l'idea di loro che si fanno al mazzo tematico ma alla fine si va a guardare oh questa carta è forte non oh questa carta è The Iron Man quest'altro discorso lo fanno i collezionisti capito? si non tanto i giocatori e ti dirò di più secondo me il fatto della perdimentità di Magic è un discorso che fanno tanto anche i vecchi giocatori molti dei quali in realtà hanno già abbandonato Magic ah si allora guarda se posso aggiungere una cosa su questo ad aprile 2025 sarà 13 anni che il mio negozio è aperto ok? ed è da quasi 13 anni che io sento dire Magic è morto lo sento dire da 13 anni eh però una volta eh però è qua allora pure io ho cominciato con guardate vi posso dire esattamente il set con cui ho cominciato che era oscurità ok? questo mi fa anche l'idea di quanto io sia vecchia perché ero già grande non ero una bambina quando c'è l'oscurità e però io vorrei anche dirvi una cosa un gioco che sono più di 30 anni che dura per forza deve cambiare la sua identità cioè non sarebbe durato così tanto cioè voi pensate veramente che Magic sarebbe durato così tanto se fosse rimasto come quando è uscito assolutamente no 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 io condivido quello che dice lei condivido ha esattamente ragione su questo io condivido poi c'è tutto un altro discorso che è quello economico ma lì lì si vanno a toccare dei discorsi dove penso che ognuno poi si faccia i conti a casa proprio nel senso io non voglio giudicare quanto sei disposto a spendere per un hobby quindi tu non vieni a giudicare quanto io spendo per un hobby però da questo punto di vista vi dico ma proprio per il tipo di creator che sono io il digitale dovrebbe aiutare su questa cosa dovrebbe un attimo alleggerire l'ingresso e poi aspetta Bana il digitale la nostra storia nel mondo del gaming noi comunque siamo formati per essere specializzati nei videogiochi e nei giochi online la storia del gaming ci insegna che all'inizio quando ci hanno prodotto nel gaming è tutto free to play poi piano piano diventa freemium e poi il digitale noi sappiamo benissimo che ha sostituito completamente la parte fisica con delle botte economiche che sono al pari di quelle cartacee questo vuole diventare il digitale quello che fa in tutti i giochi allora sì quello che ti stavo per dire io però Steven ti dico e non parlo solo di arena perché voglio parlare anche di magic online in questo momento io credo che è difficile che un ragazzino di 16 anni alzi il culo e vada in negozio no? questo è un dramma questo è un dramma ok però parliamo di magic the gathering parliamo di un gioco vecchio almeno io ok parliamo di magic the gathering parliamo di un gioco vecchio perché ha 30 anni ragazzi cioè un ragazzino che non sa neanche che cos'è è più facile che venga attirato da una piattaforma digitale su un cellulare ok? gratuita gratuita e quindi è il punto di ingresso no? il fatto è questo io vi porto il dramma che porta questo annuncio su magic arena è un dramma grosso perché standard è l'ingresso su magic arena proprio se mi duplicano o mi triplicano le espansioni eh vaglielo a dire al ragazzino che può continuare a giocare gratis e poi se vuole spendere può andare a comprare queste farle conoscere i suoi fratellini ai suoi amici cioè si complica questa cosa il ragazzino che entra in un gioco online con un pass degli acquisti in app una volta che è dentro il gioco farà gli acquisti in app cioè non ci dicono che verrà frenato dagli acquisti in app ma io parlo proprio di una cosa aspetta però Stephen perché tu vedi come è solo un videogiocatore no? sì no è sbagliato in questo caso ti dico perché qui nel mio paesino l'ho citato prima non c'era nessuno che giocava al gioco solo io ok? da quando io sono diventato un creator ho fatto iniziare tanti ragazzini a questo gioco e sai cosa cosa hanno fatto? hanno giocato tanto ad arena cioè magari ci hanno messo anche qualche soldo però poi hanno comprato un mazzo commander quindi poi c'era la voglia di portarlo in cartaceo c'è c'è ma però sono spese minime sono spese che si possono permettere tutti un mazzo da 20 barra 40 euro di commander ormai non prendiamoci in giro chiunque si sia approcciato a un cellulare una spesa dai 20 ai 40 euro se la potrà permettere per un hobby certo se è occasionale poi sì certo esatto quindi il fatto è proprio quello cioè secondo me è bellissima questa cosa che vogliono mischiare gli IP ma non ma con che numero di espansioni mi stai proponendo questo gioco a chi deve conoscere il gioco degli altri IP mi vuoi veramente eh bravo bravo vedi hai colto il punto ti dico io domani ne riparlerò anche nella mia live ne cercherò anche un parere dai miei dalla mia community io sono pronto a scommettere che la prima cosa che tutti scriveranno è troppe uscite troppe carte troppe uscite troppe carte e hanno ragione ragazzi sono tante io però non credo che sia lo dicono già da due anni però eh posso dirvelo e io non credo neanche che le persone che sono già nella tua live non sono il target di questa operazione secondo me questa operazione è chiaramente volta a far conoscere il gioco e a far entrare nel gioco a nuovi giocatori persone che non sono nella tua live che non sono in questa live persone che stanno in fissa con spider-man con i fumetti americani persone che stanno in fissa con final fantasy come noi che stiamo in fissa sono quel target che ancora non conosce magic lo ha sentito nominare e non si è mai avvicinato però persone che secondo me potrebbero non far parte neanche allo stesso paese perché magari alcune espansioni sono pensate a un target più di un altro paese che di un altro tipo final fantasy magari pensa più al target del giappone invece drift pensa più al target americano sì però vi dico anche questa cosa qui lord of the rings aveva fatto la stessa cosa venduto un botto quante persone sono rimaste a giocare dopo lord of the rings quelle che giocavano a modern diciamo mettiamola così quelle esatto quelle che giocavano a modern qualcuno si è interessato ha comprato le carte ma poi in realtà il giocatore che è rimasto è quello del modern più qualcuno vabbè chiaramente qualcuno magari si sarà riavvicinato qualcuno sarà sicuramente entrato in commander sicuro quello sicuro allora io adesso apro il vaso di Pandora dai dai lo ha fatto lo ha fatto wizard of the ghost mi ha parlato a chi è indirizzato queste carte nuove no e loro lo dividono in tre blocchi ho qui proprio i file allora perché portare universe beyond in tutti i formati we achieve several goals con questo cambiamento i tre punti sono newer players veteran players our design team e qui dice la sezione nuovi giocatori dice mi dicono da wizard of the ghost la seguente cosa i nuovi giocatori che entrano in magic tramite universes beyond possono essere indirizzati correttamente verso formati più piccoli dove i loro mazzi hanno una possibilità di essere competitivi che sono punto cioè punto eh no io ti domando cioè cosa intendono standard no probabilmente anche il commander in realtà non penso competitivo ho detto non competitivo competitivo i loro mazzi hanno una possibilità i nuovi giocatori che entrano in magic tramite universes beyond possono essere indirizzati quindi da manuela possono essere indirizzati correttamente verso formati più piccoli dove i loro mazzi hanno la possibilità di essere competitivi questo è il motivo verso i nuovi giocatori perché stiamo portando universe beyond in tutti i formati quindi manuela gli arrivano in negozio 5-10 ragazzi che stanno in fissa con spider-man o con final fantasy e manuela può indirizzarli verso qualcosa che gli piace più piccolo dove i loro mazzi possono essere competitivi questa è la risposta la mia domanda è ma quindi uscirà un formato blocco 2.0 no ma non è mai sparito effettivamente è un formato che poi non si gioca è un altro discorso io lo chiedo ma non lo esiste a questo punto cioè questo è lo schedule questo è quello che mi ha detto wizard of the ghost che hanno messo nero su bianco i ragazzi di wizards e lo chiedo a manuela a questo punto a me il formato piccolo che mi viene in mente che può essere competitivo è draft quindi li fai draftare gli vendi non lo so però non è no allora draftare è un discorso che però non è proprio per iniziare il draft quindi non credo non lo so ragazzi io aspetto la mia conferenza di metà novembre per sapere tutte queste cose per capirle meglio perché in effetti per come era la situazione del paio nero io lo considererei uno dei formati piccoli competitivi il punto è questo questa è la situazione per i nuovi giocatori quindi attiriamo i nuovi giocatori poi c'è scritto sono tre punti questo era quello dei nuovi giocatori vediamo sui veterani vediamo che dice i giocatori veterani shoulder pricey 8 dovrebbero apprezzare una riduzione di set che fanno dritti in modern che hanno creato more churn in the format typical set 2 questo era chiaro il discorso che comunque avendo meno formatica entrano dritti e sani nel modern il formato resta più sano più a lungo e quindi hanno meno difficoltà a gestirlo quindi il giocatore che gioca tanto modern è meno disturbato dai cambiamenti ma quindi scusatemi scusatemi quindi mi state dicendo che se sono legal cioè non è come un set normale standard che quindi è legale anche in modern sì cioè sono esclusivi dello standard ah è legale ovunque questo significa che le carte però sono legare se tu mi dici questa cosa mi dici che letteralmente l'ho tradotto con spesso di GPT i giocatori veterani dovrebbero apprezzare una riduzione dei set diretti per il modern che hanno creato più cambiamenti in quel formato rispetto ai set tradizionali vabbè qui si stanno riferendo a Lord of the Rings e a Assassin's Creed Modern Horizon no certo no 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 meno non tutti gli Horizon 7 rimangono l'ha detto chiaro e tondo meno non tutti ma parlano solo di Universes Beyond di Universes Beyond esatto esatto quindi noi giocatori veterani siamo contenti che mentre il modern mentre il signore di anelli era pensato solo per il modern legacy e power queste carte non devono per forza entrare in modern e quindi hanno un power level inferiore stiamo dicendo questo allora secondo me è un po' come gestiscono ora anche lo standard può capitare che magari c'è quella singola carta che entra in modern come è stato Aberanto Oculus adesso in Blumbo in Blastmoor cioè quindi può capitare che la carta entri ma è una due tre che mi dicono il set pensato per il modern deve avere il power level modern se tu mi dici io devo essere contento che questo non è pensato per il modern così mi porta meno stravolgimenti significa che ci saranno una carta due carte che il power level è piccolo non è il power level da modern quindi mi stanno già dando una dimensione a me di cosa sono questi set no? sì ma che menata posso dire che menata Steven cioè nel senso non riferito a quello che stai dicendo tu che menata nel senso e se poi sbagliano cioè e se esce no ho capito ma se esce se esce the one ring legale in standard power level lo banni in standard lo tieni legale in altri formati ma lo hai pensato o non lo hai pensato e qui vi faccio la domanda a noi Final Fantasy c'è stato annunciato come universe is beyond legale e modern come il signore di anelli Final Fantasy sì l'anno scorso l'anno scorso quindi quando l'hanno annunciato l'anno scorso e le carte le stavano creando erano carte per modern quando hanno cambiato sta roba e hanno deciso di fare anche Final Fantasy legale in standard che hanno fatto? è poco tempo quindi ci avremo un'espansione dal power level fuori da testa come azione legale in standard cosa sta per succedere? perché io leggo quello che mi viene detto da quello che mi viene detto e quello che penso è che hanno ridotto il power level dell'espansione se io da modernista non devo comprarlo per forza perché non ho le staple mi distruggono mi cambiano nemmeno il formato questo devo pensare no? questo è quello che mi hanno detto chiaramente o pre-bannano delle carte oppure bannano delle carte pre-bannano all'uscita che è brutto molto brutto non mi piace è legale standard però capisci mi Stephen infatti anche Dome penso alla stessa cosa del pre-bann eh già pre-bannano secondo me e poi abbiamo la terza voce aiuto team di sviluppo giusto? team di sviluppo il nostro team di progettazione può fare ciò in cui è più bravo abbiamo decenni di esperienza nel care set pensati per questo caso d'uso predefinito rileggi l'ultima frase Stephen un attimo allora ve la leggo in inglese il nostro team di design gets to do what they're best at possono fare quello che sono migliori we have decades of reps making sets built for this default use case allora ho capito ma non ho capito perché lo mettono tra i target perché così possono gestirlo meglio in teoria se io allora Stephen correggimi vado a leggerlo per quello che c'è scritto il loro team può sfruttare giusto una capacità di lavoro migliore avendo già sviluppato concetti simili per molto tempo è corretto è giusto sì dice che loro sono super bravi a fare standard e quindi riportando il power level allo standard non devono impegnasse per fare delle bombe da moda allora te la traduco finalmente ci siamo rotti le palle non testiamo più testiamo solo per standard è semplicissimo è semplicissimo è semplicissimo ragazzi e può essere pure anche e e ci sta e se ci pensi ci sta o comunque più che non testare diciamo mentre prima magari le energie erano divise 60-40 adesso saranno tipo 70-30 80-20 sì concordo con Sankiel concordo concordo ma lo hanno già annunciato qualche articolo fa ragazzi guardate che è tutto logico se ci pensate è veramente tutto logico in questa cosa Stephen tra l'altro non so se ne avevo parlato con te o con un collega avevano hanno detto che hanno ridotto i team di testing no? non so se queste informazioni ce le ho sottoembargo devo controllare fatemi controllare un attimino queste informazioni perché allora finiamo di commentare questo match power e torniamo poi sull'argomento che devo controllare se alcune informazioni che ho posso condividerle o non condividerle con voi perfetto datemi un momentino chiudiamo il match di power e controllo perché altrimenti queste sono cose comunque se rischiano denunce quindi finiamo di commentare il match power ragazzi comunque chiudiamo chiaramente c'è più focus sullo standard questo è chiarissimo a tutti è così e punto dai sì sì per forza comunque abbiamo un mono red contro un boros synthesizer un mardus synthesizer le terre di pascucci sono scappate forse una è stata sacrificata per cool dota ma le altre non ci sono proprio ma c'erano già le terre non le vedo no io penso che una o due prima c'erano dei goblin quindi una sicuramente niente è stata sacrificata per cool dota ma le altre non sono proprio arrivate no no c'erano dei goblinini quindi e non essendo certi artefatti al civile lo visibile sicuramente è una terra comunque voglio ricollegare un attimo al discorso della differenza digitale cartaceo e io credo che comunque questo cambiamento di magic della linea artistica di magic chiamiamola così sicuramente in digitale attaccherà molto più facilmente perché comunque l'utente digitale è molto più abituato ad avere tutti questi crossover si si hanno finito adesso vuoi non vuoi giocando a molti ragazzi perché noi parliamo dei giovani perché noi più grandi fino a un certo punto siamo il target di tutto questo mercato perché in generale il mercato videoludico punta sempre su una range età un po' più più giovane del nostro perché comunque sono i futuri giocatori e deve iniziare a fare entrare i giocatori anche lì cioè i ragazzi 12 anni 13 anni sono questi tutti i nuovi clienti tutti anche quelli che dovrebbero diventare i nuovi giocatori perché è difficile che una persona a 40 anni magari si introduce col gioco quindi è improbabile rispetto a quanti 13 anni ne potrebbero entrare quanto meno è già questo tipo di utenze è abituato ad avere il videogioco dove che ne so stai giocando a street fighter anzi scusa stai giocando a mortal kombat c'hai patriota o stai giocando non lo so a street fighter e c'hai chris renfield tutti questi tutti questi concetti sono dei concetti che già sono stati non lo so sto sparando nel senso i crossover dai per capirci allora in realtà street fighter è l'unico brand parentesi videoludica che non ha mai collaborato con nessun altro come non è vero c'erano delle skin mi pare per alcuni personaggi presi da tipo qualche anime se non mi sbaglio sono skin per gli avatar tipo per chun li c'era che cosa spy family ma sono skin per gli avatar non per chun li ok per gli avatar sì c'era stata la collaborazione la prima bello è terry terry bogard la prima volta street fighter si è aperto a collaborazione con altri brand quest'anno con street fighter 6 prendendo i personaggi di snh snk e poi c'è il caso più grande di tutti che è appunto fortnite che è uno dei giochi più giocati tra l'altro dove ormai cos'è rimasto dell'identità del personaggio di fortnite nulla cioè tutti giocano lo spiderman il batman adesso sono entrati malefica capitano uncino l'altro che era c'era un terzo adesso non mi ricordo insomma sono molto abituati a questo concetto e in realtà ritrovandolo anche in un altro gioco si trovano già nel loro ambiente è più facile per loro entrare io comunque ho un documento che mi ha girato Aaron Forsyth che è il vero presidente il designer di magic the gathering che scrive alla stampa una cosa interessante se volete ve la leggo perché è la visione della compagnia allora qui dice sappiamo che Universities Beyond ha portato molti nuovi giocatori nel gioco dando vita alle loro storie e personaggi preferiti sebbene il formato commander offra loro un'ottima pista di atterraggio quindi un logo per arrivare è una traduzione questa certo sì 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 per chi preferisce un gioco sociale tra parentesi anche se all'interno di un'enorme quantità di carte i giocatori che desiderano provare il formato constructed da 60 carte con le loro nuove carte dovrebbero rivolgersi direttamente al modern che ha oltre 20 anni di espansioni o addirittura al legacy che ha un pool di carte ancora più vasto formati come lo spunto boh vabbè andiamo qua questo mi sembra più più un standard e in misura leggermente minore il pioneer sono molto più adatti ai mazzi costruiti principalmente a partire da un singolo set in questo modo i nuovi giocatori hanno maggiori probabilità di incontrare altri giocatori che usano le carte del loro stesso set e di scoprire altre carte meccaniche che potrebbero migliorare la loro strategia quindi questo ci fa pensare che quello che stanno dicendo è che se vuoi giocare costruito va in modern o va in legacy se invece sei un nuovo giocatore e stai in standard del pioneer tu te compri secondo loro un'espansione sola e gioi con le carte di quell'espansione un super limited tipo un blocco un blocco un blocco un blocco diciamo no è blocco ma realmente chi lo fa è questo ragazzo il vicepresidente di wizard che ha scritto sta lettera sì ma realmente non lo fa mai nessuno se non nell'occasione magari del pre-release o di un singolo per me allora lui l'ha scritto pensando a che paese ma non era finito il game sì è una partita stanno continuando a giocare l'hanno l'avrà scritto pensando al mercato americano secondo me nei mercati americani correggetemi se sbaglio i walmart che vendono i sigillato vanno molto dovrebbero andare ancora molto le avevano tolti da walmart in realtà le bustine ah non le vendono più le avevano tolti poi l'hanno rimessa perché le aprivano le rubavano c'hanno avuto un po' di problemi però però mi confermi che sono ancora in adesso sono tornate da quest'estate tu devi pensare secondo me il loro nuovo giocatore non siamo noi il loro nuovo giocatore quindi è una persona che acquista andrà a giocare modern o legacy legacy xd comunque e acquista solo final fantasy o solo marvel o solo dusk si monta il mazzo con quelle carte e gioca solo con l'espansione come ci riguarda manuella gioca blocco quello di una volta però in standard dice in standard blocco è un'espansione sola quindi per forza l'espansione che ha scelto ma allora tra l'altro su arena c'è anche questa polistica perché fanno gli eventi blocco no non sbaglio cioè è un giocatore che ti compra un'espansione sola e gioca contro altre persone che hanno comprato un'espansione sola e si migliorano i mazzi così allora steven come penso io è quando dici loro secondo me considerano i nuovi giocatori semplicemente gli acquirenti se io compro anche solo una bustina e la uso contro un'altra persona che ha comprato una bustina per loro è un nuovo giocatore è un nuovo giocatore però è però è però è però è però è sbagliatissimo ragazzi scusate se no mi viene in mente jumpstart il concetto di jumpstart comprare due buste e quello è il tuo mazzo giochi contro un altro che ha comprato due buste e quello è il tuo mazzo jumpstart è l'esempio giusto infatti in foundation non solo jumpstart ma anche un set introduttivo per nuovi giocatori con il tabellone quello lì fatto col foglietto ragazzi questi c'erano c'erano eh non è una novità questa è una cosa che non c'era capito però foundation vuole essere è un ritorno vuole essere un nuovo punto di inizio un nuovo punto di lancio per introdurre nuovi giocatori e quindi fai di nuovo dei set base con il materiale per fare iniziare in realtà se ci pensi anche nei pre-relist ti danno tutta una serie di pedine cose da utilizzare per giocare quindi una cosa che fanno circamente e poi ragazzi abbiamo per concludere questa lettera abbiamo gli ultimi due paragrafi e dice perché questi set sono standard e non sono più modern perché e dice che qui non sono solo modern saranno anche modern dice che non sono modern saranno anche modern ma lui li mette in ottica come se in modern non dovessero entrare e ci dice con modern horizon 3 ancora fresco nella mente dei giocatori veterani vale la pena chiarire il nostro ideale per i contenuti diretti per il modern che è esattamente questo l'uscita occasionale di un set modern horizons creare molti set di questo tipo è complesso e il margine di manovra è stretto come si vede nel dominio del formato da parte dell'unico anello del signore degli anelli racconti della terra di mezzo accanto all'impatto quasi nullo delle carte di magic assassin creed sul formato dura in poi quindi i set universis beyond seguiranno il ciclo di vita tipico dei set di boost con molto gioco unlimited al momento del rilascio e un contributo a ciascun formato constructed in proporzioni adeguate alla dimensione del formato stesso riducendo così il turnover dei formati più grandi in una rotazione quindi quello che ci dice qui è ditemi se ho capito male si abbassiamo il power level non siamo costretti a fare un formato di bombe per il modern ma faremo un formato che a seconda di quante carte ha avrà una base standard due o tre carte che entrano in pioneer una carta in modern nessuna in legacy è qualcosa in commander com'è lo standard appunto no no poi io ne ero molto da capire ancora perché no il problema steven è che standard allora devi mettere insieme le due cose cioè standard non ti permette quasi mai di giocare solo le carte di un'espansione l'unica volta che è successo in questi ultimi anni era blomburro con le lizards che però hanno comunque bisogno delle carte delle altre espansioni di standard qui dice no no aspetta gli fanno stand eh ma aspetta però intendo se il nuovo giocatore è considerato quello che acquista il prodotto sigillato per poi avere il proprio mazzetto competitivo di quel prodotto sì non è come è stato pensato standard fino a questo momento che finora le espansioni che avevano un determinato power level nelle meccaniche dell'espansione hanno sempre funzionato in sinergia con altre utilities o altre carte persino lizards abbiamo appena visto che il nuovo giocatore non gioca standard no no sì invece però vi dico una cosa che secondo me Dome comunque dice una cosa molto vera in chat intanto si inquadriamo il nuovo giocatore come il nuovo cliente perché loro lo chiamano giocatore ma quello è fondamentalmente però lui giustamente dice ma il nuovo giocatore neanche sa in realtà cos'è lo standard il modern il pioneer legacy o quant'altro lui è non è proprio vera questa cosa più o meno più o meno io li vedo nuovi giocatori vabbè vediamo finiamo queste cose poi mi correggi tu no no io ti voglio quindi tanti giocatori no no ci stai giusto tanti giocatori io sto leggendo il pensiero del ragazzo in chat quindi tanti giocatori prendono le carte per come le hanno comprate fanno il mazzetto e giocano per iniziare poi chiaramente sarà il tio il proprietario del negozio a indirizzarli come dicevamo prima indirizzarli a giocare guarda queste carte si giocano in questo modo in questo formato quest'altra si giocano lì quest'altra si giocano in power modern standard pioneer è quello che sarà poi penso che Manuela volesse dire che comunque ormai viviamo in un mondo informatizzato dove le informazioni le trovi facilmente sul web quindi è facile crearsi un'idea di quello che è lo standard il modern anche prima di iniziare a comprare il prodotto però ecco non sarebbe strano anche che qualcuno entra e dice mi parli mi spieghi cosa è magic non ci ho mai giocato a noi è capitato quante volte ragazze arrivano in chat e ci dicono proprio questo vorrei iniziare a magic cosa mi consigliate ho visto che ci sono i formati e chiedono informazioni si informano io posso dire che poi ragazzi io parlo per la mia esperienza ma poi mi confronto anche con altri colleghi ma quando vengono al negozio non voglio dire che già sono pronti ok perché ovviamente non sono pronti però allora magari hanno già visto dei tutorial magari hanno fatto dei tutorial su arena e magari hanno l'amico che gioca ma io posso dirvi che il 99% del nuovo giocatore entra e compra un mazzo commander giusto punto punto stanno le differenze però ovviamente visto che adesso il prodotto volendo non essendoci più gli intro pack fanno ogni tanto gli starter kit ma non li hanno fatti per tutte le edizioni quello che fanno ogni edizione già pronto brandi vai e giochi è il commander iniziamo tutti col commander io sono molto d'accordo con Manuela credo che ormai l'entry point di Magic the Gathering sia il commander perché lì io ho un mazzo pronto che mi schiogioco sì sì ti riprendo a dire se quello che ha scritto è corretto dice proprio che i formati che loro possono con cui possono accedere con queste nuove carte sono lo standard del pioneer c'è proprio scritto guarda ti rileggo il paragrafo allora c'è proprio scritto o addirittura formati come lo standard e in misura leggermente minore il pioneer sono molto più adatti i mazzi costruiti principalmente a partire da un singolo set quindi tu compri il singolo set è più facile costruire lo standard però esatto però vuol dire che cambiano anche il prodotto standard perché ripeto finora solo Blomburro ha fatto un mazzo che poi è diventato competitivo è un tier 2 è Lizard che però poi gioca a terre e cose di un'altra espansione però ma perché in Blomburro verrà pensato come Tribali esatto quindi dico fino in questo momento a parte un vecchio soldati che poi in realtà aveva bisogno comunque di essere supportato non c'è mai stato un mazzo che di un singolo di una singola espansione abbia detto ok questo è competitivo punto negli ultimi anni tanto è che lo standard allungato ve rilancio vi chiedo una cosa ok per il Power a noi che ci cambia niente per Power niente a noi usciranno delle edizioni di Power dove noi guarderemo le comuni le comuni potranno essere più fighe meno fighe e in realtà è il formato più vivo di tutti al momento è il Power è la cosa pazzesca che qui non si parla di Power perché naturalmente Wizard of the Ghost non vorrà mai che il Power sia un formato competitivo perché è un formato fatto da comuni perché non ci può guadagnare come dal sigillato per una serie di cose però alla fine il Power è il formato che ne esce più vivo da questo punto di vista perché ogni espansione c'erà le sue comuni le sue comuni entrano sempre nel Power ti prendi un pool de cart e ti cambia un sacco ragazzi è Paupero Standard però perché anche lo Standard ne esce particolarmente vincitore secondo me lo Standard invece il rischio è che con tutta sta roba in Standard tu non fai in tempo a montarti un mazzo che è uscito quello dopo questo era il problema che poneva proprio all'inzobina questo era un problema gigante per lo Standard perché se io ho soldi infiniti e sono il figlio di Bill Gates e ogni due mesi Mesh & Set legale in Standard si set devono da qualcosa da giocare io devo comprare le bustine e quindi lo Standard secondo me rischia di andare in una schizofrenia totale qui e non solo in cartaceo io da content creator digitale non riesco a starci dietro tutti i prodotti addirittura da content creator neanche da giocatore Moritz dice questo è il problema che ha Yu-Gi-Oh esce un'espansione molto velocemente ogni due mesi e butti il mazzo di eruno vecchio e questo è quello che è la paura che ho anch'io relativo allo Standard ragazzi che io in Power pure se mi esce un'espansione di due mesi io sto contento perché alla fine sto pigliando da un pool di comunelle quindi saranno una o due comuni Duskmoor ci ha dato due carte per il power una è Grab the Prize l'altra è Percussionista se me ne dai due ogni espansione così io non ho fatica a stargli dietro mi si sciegherà il meta più velocemente quello si però amen capito invece in Standard che me devi vende devono essere 40 se mantengono la media 40 cose 40 carte 40 carte nuove 40 carte nuove giocabili giocabili è tanta roba per lo Standard sono troppe non è tanta roba sono troppe troppo lo Standard rischia di scoppiare rischia veramente di diventare il formato for fun lo Standard che io me compro solo Marvel mi faccio il mazzo con le carte Marvel e mi diverto con gli amici col set Marvel Spider-Man capisco si solo con Marvel perché se io penso che tutte queste uscite sono legali e standard io l'anno prossimo vado da Final Fantasy a Spider-Man con in mezzo i draghi dei Tarkir quella nella fantascienza Innistrad Remastered che non è legali standard non solo digitale in mezzo quella race delle corse nel multiverso col simbolo della bandierina e come faccio gioco standard regà? posso aggiungere legna sul fuoco? vai per ogni set standard su Arena esce un set Alchemy e in più dopo Foundation che fa 300 e passa carte metà ristampe che non sono tutte ristampe però su Arena metà ristampe sono in cartaceo e già questo è diverso ma poi ti aggiungo la bomba escono altre 300 carte per completare il Pioneer il mese dopo certo certo le antologi no? no 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 Pioneer Master 300 quindi per andare a sistemare il Pioneer che si era rotto con lo standard 394 per l'esattesa io direi poi arriva Spongebob ci stava benissimo poi arriva Spongebob è perfetto Spongebob perché uscirà davvero non la riportare Spongebob è il segreto di Spongebob perché sinceramente ho detto ok questo non lo scrivo spero solo però si c'è il segreto di Spongebob Magic the Gathering stile piano di anni è culminato con World's Park raga la Lordy Magic mi dispiace dirvelo ma è finita dai è finita è finita è finita dopo la guerra di Urza e sì era culminata è finita con gli angeli che salvano tutti una cafonata non c'è la Lordy Magic l'hanno buttata raga comunque per chiudere il discorso ci sono più espansioni legali in standard il doppio perché ci sono le espansioni Alchemist Arena e in più c'è Pioneer Master quindi non lo so boh non lo so cioè per questo che sono un po' arrabbiato anche perché lo accetto anche che mi diventino legali gli Universe Beyond anche per Arena però minchia raga ma chi riesce a stare dietro a tutto chi poi non li vogliamo mettere ma sono pure tutti i Secretler di mezzo che faranno perché non è uno ce ne sono già 3-4 nuovi annunciati sì 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 ah e più però questo è più una collezionista non stiamo toccando un punto importantissimo ce ne stiamo dimenticando i special guest ah le carte special guest eh sì cazzarola anche quelle sono di in più c'erano le special guest eh no ma Steven ma sono carte in più per ogni espansione anche quelle macello io però il messaggio che è arrivato a me che gioco modern ad esempio è non ti preoccupa che le carte se ti piacciono le compri non so tutte per il modern ce ne sarà massimo una espansione che ti diamo per modern se ce scappa abbiamo abbassato il power level di queste espansioni per non doverle entrare per forza in modern e prenditi il modern con calma e goditi il modern horizon 3 se ti piace final fantasy pietro ti piace spiderman pietro ma per altro capito al limite se non ti fa schifo spiderman o final fantasy sarà quella singola carta quelle due carte che se giocano che sono forti chill non abbiamo né voglia noi ogni volta te fate un'espansione universis beyond solo per il modern che ci dobbiamo scervellare distruggere e alzare ma non c'è scritto se balanagiani e come ultima cosa vi voglio dire che in realtà il gruppo di testing c'è sta lavorando non ha mai smesso di lavorare in realtà e questo sistema renderà tutto più facile per loro per lavorare perché il power level sarà più basso e si chiama il gruppo di testing future future click ok che non è e non è diminuito non è cambiato perfetto non è cambiato e dice che per quanto riguarda di progetzione qui wizard questi sono esattamente i tipi di prodotto che siamo attrezzati per sviluppare meglio quindi quelli per standard quindi non quelli modern col power level alto possiamo applicare i nostri criteri abituali per il livello di potenza e sfruttare la future future click per testare il constructed quindi possiamo applicare i nostri criteri abituali per il livello di potenza questa è una frase rivelatoria che ci dice che il power level di queste espansioni non è da modern non è da modern non è da rottura di cose esatto in teoria no bene io direi che abbiamo detto tutto ragazzi in grosso modo l'importante credo di sì tutto Luca c'è tanta roba però sì adesso torniamo a commentare il power allora io vi do due info ricaricherò questo contenuto se tutto è andato bene subito domani al mattino quindi lo trovate ricaricato sul mio canale se riesco subito domani mattina io vi ringrazio per l'invito e per avermi dato anche questa possibilità di essere qui con voi a parlare della cosa e anche per il contenuto che mi fate ripostare speriamo bene speriamo che il gioco non sia quello che ne esce sconfitto che poi è credo la cosa più importante no sì io ti dico che ci ritroveremo per parlarne comunque a mente fredda sì perché se tutto a mente calda tutto insieme e a mente lucida ci ritroviamo a parlare sì magari anche con un paio di conti io ti porterò anche quante carte nuove staranno per uscire l'anno prossimo perché sono tante però per me ad esempio questa è una salvata perché io da collezionista mi compro Final Fantasy e Spider-Man non ci avranno dei prezzi folli a meno che non ci sia la scioltre del 4.0 e il modern non sono costretto ad acquistare per il modern sono contentissimo e bella dai grazie ragazzi grazie a te Luca di essere stato con noi grazie alla chat grazie Luca mi mandatemi i link degli articoli per me è piacere per me se mi mandate i link degli articoli su discord li pubblico direttamente anche sotto il video sei gentilissimo caro ti mando un abbraccio ti auguro la buonanotte buonanotte ragazzoni e andiamo a commentare insieme l'ultimo è comunque Embercliffe Embercliffe forma Embercliffe io non vedo l'ora di giocarla cazzo eh però non è in standard non è non è in foundation tra le special guest eh special guest special guest mannaggia buonanotte ragazzi ciao a tutti buonanotte ciao ciao ciao